Ben ritrovati insieme ad un nuovo appuntamento con l'informazione dedicata all'Abruzzo. Oggi in apertura parliamo dei telefoni in carcere a Sulmona perché ci sono state altre tre condanne. Uno dei cellulari era arrivato a destinazione ad un detenuto nel pacco spedito da sua zia. Sentiamo. In un'epoca in cui la tecnologia interessa ogni aspetto della vita quotidiana, anche i remura di un carcere di massima sicurezza come quello di Sulmona non sono muniti da tentativi di elusione delle rigide normative che ne regolano l'interno. Tre detenuti sono stati recentemente al centro dell'attenzione giudiziaria per essere stati sorpresi in possesso di telefoni cellulari, episodi avvenuti tra il 2021 e il 2022 che hanno portato a due condanne e un patteggiamento. Un giovane di 35 anni, originario di Lecce, è stato condannato a 13 mesi e 10 giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, dopo che nella sua cella è stato trovato uno smartphone nascosto in un pacco proveniente dalla zia. Nonostante le sue insistenze sul fatto che il pacco non fosse destinato a lui, la giustizia ha stabilito altrimenti, dimostrando la serietà con cui vengono trattate tale violazioni. In circostanze simili, un detenuto 48enne ha scelto la via del patteggiamento dopo essere stato scoperto con un telefono, una scheda SIM e un caricabatterie durante una perquisizione. La pena concordata riflette la gravità dell'infrazione, evidenziando il rigido approccio delle autorità penitenziarie. Un altro caso riguarda un uomo di 31 anni, anch'esso recluso nella struttura di Sulmona, condannato a 8 mesi di reclusione per possesso di un telefono. La sua condanna sottolinea ulteriormente la determinazione dell'amministrazione carceraria e della giustizia nel mantenere il controllo sull'accesso a mezzi di comunicazione non consentiti all'interno dell'istituto. Questi episodi non sono isolati. La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha avviato un'inchiesta in seguito alla scoperta di altri quattro telefoni cellulari in celle diverse durante una maxiperquisizione recentemente effettuata. Questo fenomeno crescente nel carcere Peligno ha messo in luce la necessità di adottare misure tecnologiche avanzate per prevenire ulteriori violazioni. Tra le soluzioni al vaglio vi è l'installazione di un sistema di disturbo delle frequenze, volto a inibire l'utilizzo dei telefoni cellulari all'interno del carcere. Questa tecnologia rappresenta una sfida significativa per l'amministrazione penitenziaria, impegnata a bilanciare la sicurezza e il controllo con il rispetto dei diritti dei detenuti. La questione solleva interrogativi complessi sull'efficacia delle misure di sicurezza attuali e sulla necessità di aggiornare le strategie di controllo per rispondere alle mutevoli dinamiche all'interno delle prigioni. Mentre le autorità lavorano per rafforzare le barriere contro l'ingresso illecito di dispositivi di comunicazione, la comunità attende sviluppi sulla capacità del sistema carcerario di adattarsi a queste sfide in continuo cambiamento. E torniamo a parlare ora degli incidenti in A25 causati dall'attraversamento di alcuni animali selvatici, in particolare da cinghiali. La sicurezza degli automobilisti è stata compromessa da atti vandalici. Nei giorni scorsi sulla tratta autostradale A25, compresa tra il casello di Magliano De Marsi e quello di Avezzano, in provincia dell'Aquila, si sono verificati due incidenti causati dall'irruzione improvvisa di cinghiali sulla carreggiata. Gli incidenti, che hanno coinvolto tre autovetture e provocato danni significativi ai mezzi, fortunatamente non hanno causato vittime, ma hanno portato alla morte degli animali coinvolti. La causa immediata di questi sinistri risiede nel taglionetto delle reti di protezione lungo l'autostrada, opera di ignoti vandali che hanno utilizzato delle cesoie per creare barchi attraverso i quali gli animali selvatici hanno potuto accedere alla strada. A denunciare la situazione è Strada dei Parchi, la società del gruppo industriale abruzzese Toto, la polizia stradale di Avezzano. Strada dei Parchi, che da gennaio del 2024 ha ripreso la gestione delle autostrade A24-A25. Si è vista costretta a segnalare l'emergenza sicurezza causata dagli attraversamenti della fauna selvatica, un problema aggravato dall'attuale inadeguatezza delle reti di recinzione. La problematica non è di poco conto, considerando che l'infrastruttura in questione attraversa aree protette e parchi per lunghi tratti in Abruzzo, zone in cui la presenza di animali selvatici, tra cui cinghiali e cervi, è tutt'altro che sporadica. In questo contesto emerge la necessità di interventi urgenti per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza di chi viaggia. Tuttavia, il progetto avviato da Strada dei Parchi, in collaborazione con l'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che prevedeva un investimento di 80 milioni per la realizzazione di reti speciali a maglia differenziata alte oltre due metri, è rimasto sostanzialmente fermo. Nonostante un primo investimento di 1,3 milioni da parte della società per avviare il progetto, solo i primi 4 chilometri di rete sono stati completati. Strada dei Parchi, ora tornata alla gestione delle autostrade abruzzese e laziali, esprime nella sua denuncia la volontà di procedere penalmente nei confronti dei responsabili degli atti vandalici, qualora venissero identificati. La società chiede che vengano applicate le punizioni previste dalla legge per tali reati, sottolineando la gravità della situazione e l'urgenza di trovare soluzioni efficaci per la sicurezza stradale e la protezione della fauna selvatica. All'interno del Parco Sirentevelino invece le videotrappole hanno ripreso un orso a caccia di cibo dopo essersi svegliato dal letargo. Una mamma con i suoi cuccioli invece sono stati avvistati nei pressi della superstrada Liri. Il Parco raccomanda dunque di non avvicinarsi agli animali per filmarli o fotografarli, proprio anche per evitare incidenti. La temperatura primaverile risveglia gli orsi dal letargo, che affamati dopo i mesi invernali partono alla ricerca di cibo. Le immagini riprese dalle videotrappole nella zona della Valle Subequana del Parco Sirentevelino mostrano infatti un orso a caccia di qualcosa da mangiare. Indicazioni più precise sulla posizione dell'animale non sono divulgabili in quanto, come sottolineato dal presidente del Parco regionale, Francesco D'Amore, in un'intervista, gli esemplari che frequentano il parco sono orsi non confidenti ed è importante che restino tali per salvaguardare l'equilibrio uomo-natura che in questi anni si è creato nel parco grazie ad un'oculata gestione del territorio e al senso di responsabilità dimostrato da chi lo abita. Tornano comunque le raccomandazioni a chiunque dovesse avvistare il plantigrado di non avvicinarsi troppo, di non diffondere informazioni circa la zona dell'avvistamento, così da scongiurare eventuali rischi per la sicurezza dell'uomo e dell'animale. Non postare foto e video in cui si riconosce il luogo dell'avvistamento e soprattutto non spaventarli. Segnalare invece ogni avvistamento alle autorità competenti, carabinieri forestali, parco e sindaco, ricordando sempre di non avvicinare l'animale. Tra l'altro ci sono stati altri avvistamenti di una mamma e due cucciole a spasso per la valle Roveto e nei giorni scorsi gli stessi sarebbero stati visti attraversare nei pressi dello svincolo di canistro della superstrada Liri. Alcuni automobilisti li hanno filmati con gli smartphone con il rischio di spaventarli o peggio di causare incidenti, come l'investimento tristemente noto di Juan Carrito. Ed ora parliamo di clima perché Pescara è tra le migliori città in Italia, lo dice il sole 24 ore attraverso una classifica elaborata da Trebbi Meteo. Nella top 10 figura anche Chieti. Pescara è la città abruzzese con il miglior clima ed è al quinto posto nella classifica nazionale. È quanto emerge dalla nuova edizione dell'Indice del Clima realizzata direttamente dal sole 24 ore. La classifica è aggiornata con i dati forniti da Trebbi Meteo relativi al decennio 2013-2023. Al secondo posto in Abruzzo c'è Chieti settima nella classifica nazionale, poi ci sono Teramo al 35esimo posto e l'Aquila al 48esimo. Nei dieci anni analizzati emerge che Pescara ha registrato un aumento di temperatura di 1 grado, Chieti di 0,06 gradi, Teramo di 0,17 e l'Aquila di 1,83 gradi. Tra i dati spicca il primo posto dell'Aquila per quanto riguarda gli eventi estremi che non ci sono stati, Pescara invece è terza per le ondate di calore con quattro sforamenti dei 30 gradi per tre giornate consecutive. La classifica viene utilizzata ogni anno nell'indagine della qualità della vita per raccontare in quale delle 107 città-capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di bel tempo. I dieci indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti meteorologici di Trebbi Meteo. In testa la classifica Cebari seguita da Imperia e Barletta Andrea Trani. A chiudere la graduatoria sono Pavia, Alessandria e Belluno. E chiudiamo con il calcio in eccellenza, campionato fermo intanto la capolista Teramo si gode l'attacco mitraglia, 114 gol segnati Coppa Italia inclusa. Sentiamo Giussi Cingoli. Il città di Teramo ad un mese dalla fine della stagione ha già superato 100 reti segnate, 87 in campionato, 27 in Coppa Italia per un totale di 114 gol realizzati che testimoniano come la squadra abbia un reparto offensivo molto forte. Anche il reparto arretrato ha dimostrato solidità e impenetrabilità, i numeri parlano chiaro. Il tridente titolare d'attacco, composto da De Gidio, 23 gol, Dosanto, Setture e 24 ciascuno, hanno messo a segno 71 gol fra tutte le competizioni, mentre in difesa solo 30 reti subite complessivamente, di cui 22 in campionato, con la conseguenza di un primo posto consolidato in classifica e la possibilità per i biancorossi di accedere alla finale di Coppa Italia nazionale di eccellenza. Con il campionato di eccellenza fermo fino al 7 aprile, quando il Diavolo farà visita alla Vastese, i biancorossi comunque oggi pomeriggio si ritroveranno al Campodino Besso di San Nicolò per effettuare la prima delle quattro sedute pianificate nella settimana prepasquale. Dopo le 11 partite ufficiali, disputate in 38 giorni, Esposito e compagni si alleneranno fino a venerdì per poi godere di due giorni di riposo, prologo alla ripresa del lunedì pomeriggio di Pasquetta, avendo all'orizzonte la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Paternò mercoledì prossimo 3 aprile e soprattutto un mese di aprile che si preannuncia essere decisivo sia sul fronte campionato che Coppa. E' venuto a mancare all'età di 85 anni Quintino Stanchieri, già imprenditore, amministratore comunale e presidente della Teramo Calcio, seppur per un breve periodo, da novembre 88 a marzo 89 nel campionato di C2. È tutto per questa edizione della TG Abruzzo, grazie per essere stati con noi, arrivederci.